Oggi il comandante Oreste Martini e il pilota acrobatico Giuliano Gnoto ci porteranno ad una festa del volo davvero speciale quella che si tiene i primi giorni di primavera all'aviosuperficie Fly Felix di Montemelino in Umbria I piloti ogni 2 di giugno condividono l'ebbrezza del volo e il loro aereo con gli amici dell'associazione Durante Noi che si occupa di ragazzi con problemi fisici alcuni di questi volano per la prima volta diciamo che mettono le ali perché si sa, se vuoi volare muscoli bicipiti da palestra saranno inutili ma dovrai per forza avere due belle ali per librarti in aria I ragazzi sono arrivati di buon mattino con le loro famiglie e la festa è già nell'aria e a dire il vero anche il profumo del pranzo in cottura sul barbecue e la festa è già Grazie a tutti. Grazie a tutti. E allora in volo con il comandante Martini e con i nostri amici di Durante Noi sul cielo azzurrissimo del lago Trasimeno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È arrivato il momento che molti attendevano, soprattutto il comandante Martini. Se si mangia con gli amici, lui c'è di sicuro. Manca solo uno, Giuliano Ignoto, ma ormai lo conosciamo. Lui si ciba solo di nuvole e adrenalina. E siccome non sarebbe molto salutare a riempire lo stomaco prima di compiere i caprioli in aria, approfittiamo per fare l'ultimo volo della giornata con lui prima di pranzo. E allora, grazie a tutti. E allora, grazie a tutti. E allora, grazie a tutti. Grazie a tutti.